I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno svolto un servizio antidroga che ha condotto all'arresto di una persona ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri, avendo il sospetto che un 54enne residente a Marsala, con precedenti specifici, fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato avanti un'attività investigativa. In questo ambito hanno eseguito il decreto di perquisizione domiciliare personale emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala nei confronti dell'uomo. Alla vista dei carabinieri e del pastore tedesco Ron, il 54enne ha consegnato spontaneamente circa 20 grammi di marijuana e 9 di hashish, asserendo di non detenere nient'altro. Tuttavia, durante l'attività, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 445 grammi di marijuana, circa 10 grammi di cocaina, un contenitore con alcuni semi di piante di cannabis, 550 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività illecita, tre bilancini di precisione ancora intrisi di sostanza stupefacente e sostanza da taglio del tipo mannite e altro materiale vario per il confezionamento delle dosi. Dato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta e le circostanze che lasciano ipotizzare la cessione della droga a terzi, i carabinieri hanno dichiarato il 54enne in stato di arresto. L'uomo, su disposizione della competente autorità giudiziaria in sede di convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con il diveto di uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 7 del giorno successivo.